Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 ricordiamo che fino al 18 giugno è chiuso il tratto della panoramica tra la variante di Valico e Aio per lavori. Segnalato un veicolo in avaria tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna. Sulla FIPILI prestare attenzione per una perdita di carico avvenuta tra l'allacciamento della FIPILI e centro intermodale Ovest in direzione Firenze. Sull'accordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia chiusa l'entrata e l'uscita di Rio Torto in direzione Genova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!